Arriviamo quasi alla fine di questo 2023 che sportivamente parlando ha regalato tantissimo il canadese. Questa volta torniamo a parlare di calcio con una realtà che il nome è storico, ma in realtà è da pochi mesi che è tornata meno alla Rivalta. Stiamo parlando della San Giustese. Siamo con Fabiano Altabello, l'allenatore della San Giustese che abbiamo conosciuto anche per altri motivi sportivi. Luca Scogliele che è il segretario invece della San Giustese. Buonasera. E infine Sandro Conti che è amministratore delegato di questa società che è ripartita alla grande. Buonasera. Buonasera.